Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting Mio Podcasting, un contenuto audios a cadenza mensile Questa è la stagione 3 In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Palio Contatto Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting In questa puntata parleremo della mia bloggata Wired vs Wireless Il link alla bloggata lo trovate come sempre in descrizione del file di Youtube In questa puntata tratterò il topic classico dell'informatica che è salita alla ribalta solo da pochi anni Un pochino di storia prima di addentrarci nel cuore della bloggata Il segmento di mercato Home Office Computing è entrato alla ribalta verso i primi anni 90 Un'epoca in cui internet iniziava a diffondersi tramite l'intrapresa degli ISP commerciali Che offrirono traffico dati che all'epoca era fatturato a tempo In fatturazione a scatti su tariffe in urbana Più lo scatto alla risposta Oltre a dover pagare un canone fisso annuo all'ISP Che garantiva l'accesso al Pop Point of Presence urbano per internet Grazie alla concorrenza telefonica dell'unbundling del local loop Nacquero vari ISP gratis Ossia ISP senza canoni fissi annui Ma la loro fatturazione del traffico dati per gli utenti era comunque a tempo La maggioranza delle connessioni internet erano via modem Solo le aziende di ricchi potevano permettersi ISDN a 64kbit al secondo Oppure a 128kbit al secondo Le connessioni tra computer di casa erano assai rare Essendoci in media un solo computer nella casa degli utenti Non esistevano ancora i tablet Non c'erano gli smartphone I riportatili costavano un occhio della testa Ed erano molto meno performanti dei computer tower O semplicemente desktop Sembra un secolo fa Ma è appena un decennio fa I computer di casa si connettevano via internet Internet solo in modalità wired Il computer usava la porta seriale collegata al modem Mentre la stampante di casa era solitamente ad aghi Con connessione wired Parallela oppure una seconda seriale Nei grandi centri di calcolo universitari Nelle aziende c'erano schede di rete Ethernet 10BaseT con innesto a baionetta Ovunque dominavano cavi elettrici da tutte le parti Poi è arrivata la DSL Una serie di protocolli asimmetrici Che valorizzavano la rete di rame di buona qualità degli anni 1950-1960 Che la telecom aveva steso Meno diffusa è la fibra ottica Che comunque in taloneare incomincia ad essere disponibile In breve tempo le connessioni wired sono state rivoluzionate dal wireless La porta seriale e parallela sono state sostituite dalla USB e MiniUSB Presa di rete da 10BaseT divenne RJ45 Le porte RJ45 sono diventate auto-sensitive Per cui sono spariti i cavi dritti ed incrociati E gestiscono connessioni da 10-101 Gigabit Le stampanti laser hanno invaso anche il segmento Home Office E non sono più un mitico hardware per i centri di ricerca La presa Ethernet è stata sostituita in genere da una porta USB La powerline Ethernet permetteva di alzare una LAN Local Area Network E ha presi di corrente di casa E' diventata hardware economico e semplice E risolve il problema di stendere i cavi UTP Intorno al 2007 Apple fu la prima a introdurre Airport Era un bridge Ethernet wireless Wi-Fi Con cui connettere i computer Apple ad una LAN rete locale ibrida Poi viene il Wi-Fi e il Bluetooth Sono protocolli wireless Molto diffusi su quasi tutti gli hardware E largamente usati dagli utenti Spesso sono usati anche per stampanti e mouse Molti utenti oggi ignorano il fatto che appena pochi anni fa Niente di tutto ciò era disponibile A prezzi così competitivi Come quelli offerti oggi nel superstore Grazie ad una massiva produzione in Cina Nelle connessioni wireless ci sono pregi e difetti Sono facili da stabilire e non ci sono cavi da stendere in casa Il passaggio dati da smartphone a stampante Internet è facile e rapido Il difetto principale è che sale l'inquinamento elettromagnetico E questo non è percepito dagli utenti I quali si troveranno a vivere dentro ad un piccolo forno a microonde Corre sommare infatti il livello delle radiazioni elettromagnetiche Presenti nella rete telefonica mobile GSM, UMTS, GPRS Più la rete wireless dei cordless di casa Nonché l'inquinamento elettromagnetico del DVBT Oltre a tutte le emissioni elettromagnetiche delle rete Wi-Fi Presenti nelle case dell'utente Più quelle dei vicini Dato che il segnale si propaga attraverso i muri In modo spesso assai invasivo Altro difetto è che sale esponenzialmente Il rischio di violazioni informatiche Dentro la LAN o wireless di casa Tale rischio non è spesso adeguatamente percepito dagli utenti Che in media Non hanno una cultura informatica adeguata Per seguire tutti i potenziali rischi di sicurezza Non è che si può vivere come maniaci paranoici Tenendo sempre aperto un software Per monitorizzare cosa sta accadendo sulle porte del computer Quali connessioni wired o wireless sono impiegate Verso quali P e di chi sono quelli P e perché hanno una connessione con il vostro computer Chiedendosi se sono aggiornamenti software Oppure cos'altro Nelle connessioni wired locali ci sono pregi e difetti Sono facili da stabilire Basta agganciare il plug Essendo il plug in play anche a caldo Il difetto principale è che serve un cavo Ethernet o USB Per connettere la periferica Dovendo condividere la connessione tra più stanze della casa Con restendere un cavo per portare la connessione wired Il pregio principale è che l'inquinamento elettromagnetico è zero Ossia in casa Chi ha connessioni Ethernet Non andrà wired Non andrà a salire il livello delle radiazioni elettromagnetiche di fondo Il livello di sicurezza di una LAN wired è massimo Se la LAN è chiusa Ossia non è connessa ad Internet senza Wi-Fi Dove i dati transitano solo su cavi Ethernet Non c'è modo dall'esterno di infiltrarsi Quale scegliere? Beh, io preferisco le connessioni wired in locale Per tenere il livello delle emissioni elettromagnetiche basse Inoltre, così come una casa ha una rete elettrica Una rete idrica Delle acque bianche e nele Una rete del gas Non sarebbe, a mio avviso, irrazionale Stendere in casa una rete di cavi UTP di categoria 5 Con prese Ethernet RJ45 Per portare Internet nelle varie stanze C'è poi una soluzione wired Per LAN locali alternativa a basso costo Adattatori Powerline Che permettono tramite prese RJ45 Di stendere una LAN Semplicemente inserendo l'adattatore nella presa di corrente E sfruttando i cavi di corrente Che sono presenti in ogni casa Risulta ancora utile conoscere la differenza tra megabit e megabyte In cui è necessario definire le unità di misura Che si usano in Internet Tutto il breve scorso sulle unità di misura Se volete, se siete interessati Ve lo potete andare a fruire nella via bloggata Che trovate nel link indicato in descrizione In questa puntata abbiamo finito Un saluto Ciao